alla fin fine una verità e ci appassioniamo alle storie sfortunate di rock n roll più ancora quelle di grandi successi delle rock star che si fanno le piscine a forma di chitarra che hanno le donne migliori hanno il whisky migliori è ovvio tutti vorremmo essere qualcuno di loro almeno per una volta nella vita ma la vita la vita di tutti noi soprattutto di noi che siamo appassionati è molto più simile a quelli che non solo non ce l'hanno fatta ma non ce l'hanno fatta del tutto ecco forse sono per quelli che ti fiamo in modo in modo più forte per i beautiful losers i magnifici perdenti quelle delle band minori o quelli che nella retorica classica di noi appassionati sono quelli che avrebbero meritato di più il paradigma classico è alex chilton dei big star una band che se non conoscete dovete iniziare a conoscere e che tutti noi diciamo avrebbe meritato di più perché ha scritto delle canzoni meravigliose ed è stato l'artefice forse più alto di un genere tra quelli diventati poi famosi tra i più trascurati il power pop ecco questa sera parleremo di power pop che cos'è il power pop? il pop al massimo potenziato lo dice la parola stessa in realtà ad inventarlo fu Pete Townshend il chitarrista degli Who che definì la musica del proprio gruppo come power pop e sostanzialmente si tratta del pop della British Invasion quella dei Beatles sostanzialmente però portato ad una potenza ad un livello maggiore che parla di teenager che parla di divertimento che è molto diretto deve essere divertente far ballare e nasconde all'interno di questi obiettivi primari che sono quelli del rock and roll in realtà una sapienza una raffinatezza compositiva spesso molto alta uno dei paradigmi del power pop che forse tutti conosciamo è My Sharona degli Knack che in realtà non incisero mai più una canzone a quel livello ma più o meno tutti abbiamo sentito My Sharona e ancora adesso quando sentiamo quei tamburoni e quel riff non possiamo fare a meno che di divertirci ecco dicevamo i Beautiful Losers, i Magnifici Perdenti c'era una galleria infinita abbiamo detto Alex Chilton per esempio uno dei miei preferiti da questo punto di vista è Graham Parker inglese che ha scritto canzoni bellissime ha un blend, una miscela di rhythm and blues, il pop e rock and roll però alla fine è rimasto, ancora adesso incide ottimi dischi ma è rimasto come dire un paladino di pochi appassionati c'è un esempio che lo classifica in maniera perfetta ed è lui e Graham Parker che ha già inciso un po' di dischi siamo verso la fine degli anni 70 ed è a Londra sta attraversando la metropoli inglese sul suo scooter a un certo punto si ferma al semaforo e viene affiancato da una limusine con i vetri oscurati, che è un po' l'emblema della ricchezza uno di questi finestrini si abbassa e appare Bruce Springsteen che all'epoca era già Bruce Springsteen, quindi famoso che lo riconosce e gli dice grande Graham Parker, mi è piaciuto molto il tuo ultimo disco, davvero bravo non fai in tempo a dirgli quello che scatta al semaforo e la limusine con Springsteen va avanti e Graham Parker riaccende da gas al suo motorino e parte ecco credo che non ci sia nulla di più cinematografico che esprima meglio il concetto di grande successo e piccolo successo ora, fra i due, io ovviamente tifo Graham Parker va detto che però Springsteen ricambiò il favore e andò a fare i cori insieme, lo chiamò a fare i cori, collaborarono insieme quindi insomma in qualche misura non solo scattò al semaforo ma lo ricompensò questo è un piccolo quadretto di questi personaggi però il mio preferito, e qui torniamo all'argomento della canzone di oggi il mio aneddoto preferito è quello che riguarda Jack Lee Jack Lee, San Francisco trasferito a Los Angeles è un alfiere di una delle band del power pop di quelle che noi appassionati diciamo che avrebbero meritato di più e sono i Nerves i Nerves incidono poco, velocemente e si buttano subito sulla strada nella maniera old school cioè come facevano una volta i gruppi che saltavano sul furgone e andavano in giro a suonare in realtà quel trio di power pop appunto di canzoni pop sparate con chitarre al limite e istantanee forme di divertimento ha all'interno alcuni dei musicisti che poi saranno fondamentali per la categoria del power pop e cioè ci sono Peter Case e Paul Collins ma concentriamoci sui Nerves i Nerves in realtà cominciano a funzionare come dicevamo vanno in tour vanno in giro per tutta l'America e questo suonando anche con gente molto famosa come i Ramones questo si è romantico ed è fondamentale per una band che si deve affermare in quegli anni e anche ciò che li uccide perché fanno tipo 27.000 miglia al giorno in un furgone scassato in macchine recuperate di fortuna e questo è estremamente rock'n'roll e divertente e in un circuito underground poco conosciuto cementa la loro fama però è anche ciò che li uccide quindi si scioglieranno molto in fretta scioglieranno molto in fretta ma avranno una hit in realtà in Cina nei primi anni 70 nel 73 la sua genesi parte molto in là prima ancora che il genere esploda di power pop e poi il punk pop di cui parleremo più avanti e questa canzone è Hanging on the Telephone una canzone scritta da Jack Lee che in realtà parla già di quella che sarà la sua futura suocera una canzone tipica, iperadolescenziale una canzone in cui il protagonista telefona e qui a seguire questi racconti ci sono ascoltatori molto giovani dovete fare uno sforzo immaginativo perché qui ai noi i cellulari non esistevano il telefono è ancora il telefono fisso quindi quando telefonavi a casa non sempre rispondeva a chi desideravi e cioè nel caso specifico sono due ragazzi innamorati lui telefona a lei per avere sue notizie per parlarle per forse fissare un appuntamento per rinsaldare quel canale d'amore che molto spesso passava appunto per i figli del telefono però dall'altra parte potrebbe rispondere la madre della fidanzata e quindi questo potrebbe ostacolare ripete una cosa iperadolescenziale come molto spesso il power pop sa essere in maniera esemplare e quindi dice non stare da lui il protagonista cioè Jack Lee dice alla sua fidanzaria poi diverrà a sua moglie e dire non stare ad ascoltare quello che dice tua madre non lasciarmi qui appeso al telefono insomma dimmi che mi ami una teenage pop song e Jack Lee è convinto che questa sia una grande canzone e i nerves quando ne le incidono funziona la canzone in circuito ripetiamo ancora molto underground funziona però non riesce a superare quella barriera e poi i nerves si sciolgono e Jack Lee prova ancora ad essere a diventare qualcosa di più di un magnifico perdente perché pensa che la musica che il rock and roll sia ancora la sua vita e ci vuole provare però alla fine il rock and roll molto spesso non paga le bollette soprattutto quelle del telefono e quindi Jack Lee in un venerdì perché si ricorda precisamente di quel giorno è a casa è a casa e purtroppo non ha più soldi per pagare la bolletta e quindi gli hanno comunicato pochi giorni prima che alle 6 di quel venerdì della fine della seconda metà degli anni 70 gli staccheranno l'elettricità gli staccheranno l'elettricità e con essa anche la connessione telefonica cioè Jack Lee verrà sconnesso dal mondo e questo è l'emblema di un fallimento di un fallimento di chi ha creduto nel rock and roll e nelle possibilità di farne un mestiere di esprimersi e di raccontare meglio quelle che sono anche le sue storie private come quella di un innamorato che sta telefonando alla sua fidanzata quindi dovete immaginarlo seduto su una sedia non ha quasi più nulla intorno al suo appartamento che sta semplicemente aspettando l'atto formale che ucciderà tutti i suoi i suoi teenage dreams le sue speranze via l'elettricità via il telefono lasciamolo lì un secondo e spostiamoci dall'altra parte dall'altra parte del mondo siamo in Giappone e lì ci sono i blondi questi blondi soprattutto questi blondi che sono già all'epoca una band affermata di che cosa? power pop rock and roll pre punk non lo so forse tutto questo di sicuro stanno scrivendo delle canzoni estremamente divertenti che funzionano con una carica rock and roll molto forte e soprattutto si avvalgono di una cantante straordinaria cioè di lei di Debbie Harry che è talmente esemplificativa della band che molto spesso viene considerata lei stessa blondi ma Deborah Harry è alto sono blondi sono il gruppo e i blondi per l'appunto in quel momento si trovano in Giappone e hanno ricevuto una cassetta che gli ha donato un amico anzi qualcuno più di un amico questo amico si chiama Jeffrey Lee Pierce che è un'altra leggenda un beautiful loser neanche tanto beautiful perché la sua vita ahimè è stata ben tragica Jeffrey Lee Pierce è il cantante dei Gang Club uno straordinario gruppo punk degli anni 80 di Los Angeles che aveva riannodato appunto la tradizione punk con una certa idea americana fatta di Creedence Killwater Revival di blues di paludi di America Dark quasi alla folk quasi letteraria ecco Jeffrey Lee Pierce che poi finirà suicida insomma in una carriera drammatica il suo culto verrà amplificato poi purtroppo dopo era uno straordinario performer e aveva una magnifica ossessione e la magnifica ossessione era quella per Debbie Harry e per i blondi tant'è che diverrà il presidente del fan club locale dei blondi e riuscirà diventerà amico della band riuscirà anzi nel suo disco Miami a collaborare a far cantare direttamente Debbie Harry comunque lui registra una cassetta un nastro e la dà i blondi e in quella cassetta c'è niente meno che hang in on il telefono e i blondi che sono già in tour e sono già grossi sono una band affermata si trova in quel momento in Giappone e si trova nel retro di un taxi che sta attraversando una città giapponese Tokyo per la precisione in quel momento loro non so forse su un nastro anzi sicuramente su un nastro ma su un registratore portatile stanno ascoltando quella cassetta e quando parte Hang in on the telephone una canzone che loro non conoscono e che non avrebbero conosciuto se il loro fan numero uno Geoffrey Pierce non gliela avesse consigliata e messa su quell'amorevole mixtape la fanno partire e la canzone capiscono subito che è una canzone che funziona ma la capiscono soprattutto quando il guidatore di quel taxi comincia a battere il tempo sul volante e lo fa per tutto il tempo probabilmente quel taxista di Tokyo non è sicuramente un appassionato di rock and roll forse non sa neanche che cosa sia il power pop ma è questa la magia di quel genere funziona immediatamente allora si guardano e dicono beh cazzo questa canzone non è niente male e allora quando poi rientrano decidono di telefonare al loro manager e dire contatta i Nerves perché i Nerves hanno questa canzone che ci interesserebbe pubblicare e vengono a sapere che i Nerves sono già sciolti sono già sciolti e quindi dicono forse è ancora meglio allora di nuovo dicono di nuovo cazzo incidiamola noi quella canzone e allora cosa succede succede quel piccolo miracolo che prendono il telefono hanno ricevuto intanto il contatto con Jack Lee e lo chiamano e quando lo chiamano lo chiamano esattamente quel venerdì in cui stanno per staccare l'elettricità e la corrente telefonica a Jack Lee quindi Jack Lee si trova come abbiamo detto in una situazione in cui i suoi sogni stanno per essere spazzati via però rock and roll anzi forse il power pop che è una versione un pochettino più solare ottimista del rock and roll gli fornisce la carta che non avrebbe mai immaginato di pescare squilla il telefono prima delle sei Jack Lee risponde e dall'altra parte sono i blondi che gli dicono hey Jack noi vorremmo incidere hanging on the telephone e questo cambia cambia completamente la carriera non solo di Jack Lee principalmente di Jack Lee ma anche dei blondi perché perché Jack Lee è comunque dice ok perfetto loro non sanno neanche che è disperato non sanno neanche che probabilmente avessero telefonato qualche minuto qualche ora dopo non avrebbero potuto parlare con Jack Lee perché il telefono gli sarebbe stato staccato Jack Lee guadagnerà ovviamente e meritoriamente dalle royalties della cover version che faranno i blondi di hanging on the telephone e hanging on the telephone in questo album in parallel lines diverranno i blondi ancora più famosi qua ci sono delle delle hit pazzesche c'è Heart of Glass c'è One Way or Another ci sono canzoni splendide alcune meno famose con Will Anything Happen però è un disco che potenzialmente ancora oggi fa saltare tutti per aria e ne sanno qualcosa anche One Direction ma perché le hit dei blondi funzionano ancora oggi e vengono coverizzate però hanging on the telephone funziona subito e quindi è una storia di Beautiful Loser ma una storia diciamo a lieto fine però non abbiamo speso due parole prima di riparlare ancora delle canzoni spendiamo ancora due parole sui blondi su come iniziavano su dove si formavano ecco i blondi sono uno dei carri di quell'epopea straordinaria che è stata la New York di fine anni 70 che si cementa intorno ad alcuni locali come il CBGB il Max Kansas City dove hai gente come Patti Smith i Ramones i television i Tolkien i blondi suonano incessantemente è una New York ancora pericolosa che si risolleva sta risollevandosi dalle sue macerie e tutto fa parte di quel mito di una città dove il crimine è molto alto ma dove il rock and roll forse sembra ciparsi di tutto questo che pare negativo ma che in realtà funziona funziona enorme in maniera estremamente creativa Debbie Harry in realtà al secolo Angela Trimble nasce a Miami nasce a Miami e poi si sposta segue i suoi i suoi sogni di rock and roll che forse all'inizio non sa neanche di coltivare si trasferisce a New York fa diversi fa diversi lavori fa la cameriera lavora come segretaria per la BBC inglese lavora come ballerina in un in un locale di gogo dancing ma soprattutto e questo contribuisce al mito del personaggio diventa una coniglietta di playboy per chi non lo sapesse le conigliette di playboy della mon rivista erano delle ragazze bellissime e Debbie Harry lo è che lavoravano nel club Hugh Hefner il proprietario del playboy accoglievano le persone all'ingresso del club le accompagnavano erano vestite in abiti succinti spesso con un cerchietto con orecchie da conigliette ecco tutto questo oggi forse giustamente può sembrare impensabile sessista e tutto ma all'epoca funzionava e Debbie Harry anche recentemente ha detto ok forse dal punto di vista come dire dell'idea della donna è sbagliato però sappiate che all'epoca noi eravamo trattate molto bene nessuno abusò mai di noi ma soprattutto dal punto di vista contrattuale perché ricordiamo il business per gli americani è sempre fondamentale avevamo un ottimo trattamento cioè ci guadagnavamo bene ed eravamo tutelati ora immaginate che cosa significhi trasportare una coniglietta di playboy quindi una ragazza bellissima all'interno di una rock'n'roll band in una New York pericolosa ecco tutto questo crea immediatamente il mito dei blondi come dicevamo prima tutti penseranno che i blondi sia Lady sia Debbie Harry il nome della band nasce da questo perché quando loro si spostavano quasi sempre come dire soprattutto i camionisti viene detto questo nel ricordo della band fischiavano quello che oggi conosciamo come catcalling si schiavano dietro a Debbie Harry e la chiamavano Hey Blondie perché aveva questo caschetto platinato straordinario e allora divenneri i blondi ma Debbie Harry in realtà aveva già militato in altre band Wind in the Willows che era una band di folk rock sostanzialmente e poi negli Stilettos dove incrocia Chris Stein Chris Stein diventa chitarrista dei blondi e diventa anche compagno di Debbie Harry e lo sarà a lungo quando anzi i blondi si scioglieranno lo faranno anche perché Chris Stein ha una malattia autodigenerativa molto rare molto dura e Debbie Harry deciderà di stare con lui e guarirlo la coppia andrà avanti con un po' Chris Stein in realtà guarirà quasi completamente e poi si separeranno ma manterranno sempre un grandissimo affetto reciproco non è che Debbie Harry è la madrina delle due figlie di Chris Stein e diciamo appunto i blondi appartengono a quella New York e immediatamente la cosa non può che funzionare cioè c'è anche tutto il lato estetico e Debbie Harry questa è Debbie Harry che vedete qua con questo amorevole broncio che funziona è il sogno proibito di tutti gli appassionati di rock and roll finisce sulla copertina di un Rolling Stone del 1979 e l'America l'Australia l'Inghilterra ovunque impazzisce per lei la formula musicale dei blondi come vi ho detto prima sta a metà fra un'idea di punk melodico un'idea di pop e quel power pop che abbiamo provato a caratterizzare precedentemente e quando loro prendono Hang It On The Telephone quella canzone iper adolescenziale come abbiamo stradetto precedentemente di Jack Lee la modificano di poco la versione dei Nerves è molto più cruda loro la ammorbidiscono un po' viene prodotta da Michael Chabban che è un mago del power pop e sarà colui che produrrà anche My Sharon aggiungono all'inizio un leggerissimo effetto telefonico che era quello dei telefoni fissi di una volta che annunciava spesso queste telefonate amorose e che moltissimi chitarristi dell'epoca usavano per accordare la chitarra abbiamo detto i blondi divengono famosissimi e riescono a nodare con la loro grande capacità di stare fra mille generi Hang It On The Telephone e forse il primo passo che avvicina quel loro modo di comporre alla disco music che nella fine degli anni 70 qui siamo nel 78 sostanzialmente esplode e porta il rock anche in discoteca si può ballare come si ballava rock and roll agli inizi Heart of Glass funzionerà nelle discoteche Blondie cioè Deborah Harry più avanti farà dei primissimi esperimenti di hip hop con rapture cosa che nella New York dell'epoca era assolutamente normale perché tutti i generi si incrociavano abbiamo detto che poi si scioglieranno i blondi si scioglieranno si riformeranno faranno carriere definitive ma verranno quasi sempre ricordati per questo disco per Parallel Lines e per questa straordinaria esplosione pop per la capacità che hanno avuto di reinterpretare quella canzone e di renderla e di guardarla da una visuale femminile perché è Debbie Harry a questo punto che parla al suo fidanzato ma l'idea è sempre quella non lasciarmi al peso al telefono è quasi una richiesta che si fa non soltanto al proprio innamorato ma al rock and roll non lasciarmi appeso portami avanti conferma ciò che voglio confermi i miei sogni i miei teenage dreams Blondi ha continuato Deborah Harry i blondi si sono riformati e Deborah Harry ha continuato a cantare e tornato in Italia anche non moltissimi tempi fa ha scritto un interessantissimo un memoir un racconto di quella New York di quegli anni anche molto aspro ricorda come fossero anni in cui si sperimentava tutto lei e Christine Christine sperimentarono molte droghe riuscirono a venirne fuori anche insieme racconta di momenti durissimi lei fu violentata in quella New York da un delinquente niente meno che con un coltello e lo stupro fu terribile e lei dice che però quella era un New York dove capitavano queste cose era pericolosissima la violenza era nelle strade e raccontò addirittura di quando una volta riuscì a scappare da Ted Bundy il serial killer dell'epoca che aveva lasciato una scia drammatica di uccisioni che stava per costringere a essere in macchina con lui ma riuscì a scappare raccontò anche come fossero anni di estrema libertà racconta di come lei ebbe molti rapporti anche con donne e uomini e questo ne fa di un'icona estremamente moderna libera una donna che ha saputo che ha saputo cavalcare una delle stagioni più formidabili del pop e del rock'n'roll e l'ha sempre fatto però con quella adorabile broncio sapendo giocare con la carica sexy sua, personale di una donna bellissima di una ragazza splendida che poteva indossare tubini neri sottovesti converse all star scassatissime o stivaloni veramente il sogno proibito di qualsiasi ascoltatore o ascoltatrice di rock'n'roll e però oltre a questa canzone divertentissima splendida di pochi minuti che è un emblema del power pop non dobbiamo dimenticare quanto ciò abbia giovato alla carriera di Jack Lee che ha continuato a suonare ha potuto grazie a quella telefonata che è arrivata al momento giusto ha potuto continuare a suonare pur con una carriera non sotto i riflettori peraltro ha scritto delle canzoni che hanno funzionato dal punto di vista commerciale ha scritto delle canzoni niente meno che per l'album No Parlé di Paul Young icona pop inglese degli anni 80 prendendosi meritatamente anche le royalties se non soltanto i meriti di quelle canzoni e poi suoni improprio ogni tanto con delle band magari suona davanti a 40 persone ma mantiene vivo quel sogno del power pop e del rock and roll e una delle sue dichiarazioni più belle è stata questa dice c'è un sacco di gente che nella vita insomma ce l'aveva con me però nessuno di loro ha mai potuto negare che Hangin on Telephone fosse una gran canzone e noi non possiamo che essere d'accordo con lui e noi non possiamo che essere d'accordo Grazie a tutti